La primavera è di nuovo slow. Ritorna primavera slow 2024, tre mesi dal 22 marzo a metà giugno, in cui il parco del Delta del Po apre al pubblico i suoi magnifici scenari, incentivando un turismo lento, sostenibile, in grado di assaporarlo nella sua vera incontaminata natura. Un fitto programma di esperienze per grandi e bambini, in un paradiso naturale, riconosciuto dal 2015, riserve della biosfera ma a Bonesco. Tra boschi, salini, acque barene, tra i vecchi casoni dei pescatori. Tantissime le possibilità di escursioni, in bicicletta, in barca, a piedi o a cavallo.